Giuliano Regolanti, nuovo arrivo del Prato, sei proprio nuovissimo, oggi è il tuo primo allenamento con la formazione Bianca Azzurra raccontaci un po' di te e anche la scelta di venire a Prato La scelta di arrivare a Prato l'abbiamo fatta due giorni fa e mi chiamò il direttore del Frosinone e mi disse devo andare a Prato? E gli ho detto sì, perché? Perché no? Mi fa una bella piazza, giovane, puoi giocare, te la puoi giocare con gli altri giovani e niente, ho accettato subito e comunque sia devo riscattare gli ultimi sei mesi che ho fatto a Matera che sono stato quattro mesi fuori rosa per un litigio con un compagno e niente, sono qui per riscattarmi Tu sei un attaccante, destro-sinistro, quindi sei pronto per entrare in questa squadra anche se il momento non è facile perché si arriva da quattro sconfitte consecutive Sono straccarico e ho voglia di far bene e comunque sia dobbiamo conquistare il prima possibile la salvezza anche se è la portata, la classifica è corta e spero di salvarci Hai detto proprio te, è una classifica corta, tu sei già esperto della Lega Pro, della divisione Cosa vedi di questa squadra positiva? La squadra è molto giovane, non è che la conosco tanto ci ho giocato l'anno scorso contro e mi ha fatto una buona impressione Il campionato è abbastanza equilibrato e credo che ce la potremo giocare con tutti Tra l'altro insieme a te ci saranno Capello e Moncini, sono due giocatori anche loro giovani quindi siete un bel trio come si dice Ma diciamo che Capello e Moncini non li conosco però ci sarà modo di conoscerci in campo e spero di fare il più gol possibile e dare una grossa mano Benvenuto a Prato Grazie